ciao a tutti amici di roma view ben trovati eccomi qua di ritorno con un unboxing me lo avete chiesto in parecchi chi qui su youtube e su instagram e su facebook e finalmente vi porto l'unboxing di society il nuovo titolo della mid nel classic che vi ricordo disponibile in esclusiva sul fanfactory shop di coach media come al solito mille copie per questa edizione che io reputo veramente sontuosa ma andiamo a scoprire perché classico box quindi con all'interno il simile digibook della mid nel classic box anche abbastanza rigido vi ricordo mille copie numerate e disponibile in esclusiva solo sul fanfactory shop di coach media contiene oltre due ore di contenuti speciali e poi all'interno abbiamo tutto quello che ci serve come al solito un po tostarello ad uscire un secondo eccoci ci siamo e all'interno per l'appunto abbiamo il simile digibook perché lo definisco simil digibook perché noi sappiamo ormai il digibook non è più ancorato alla confezione ma è separato e in questo caso ritorna la preziosa taschina con all'interno sia il il booklet scusate che il card la card da collezione andiamo a scoprire a breve ci sono due dischi questo è il disco del film master restaurato ragazzi di gran qualità devo dire che si vede una bomba e poi abbiamo anche il disco degli extra nel primo disco come extra abbiamo anche il commento del regista al film è un film sarcastico horror ma anche sarcastico comunque bizzarro sui suicidi e poi abbiamo il disco con i contenuti speciali tra l'altro c'è un extra inedito realizzato solo per questa versione ovvero un'intervista al regista di circa 50 minuti quindi un extra prezioso disponibile solo sulla versione italiana all'interno ovviamente non manca anche un bel artwork interno per questa bella immagine questa bella foto e poi abbiamo come dicevamo la card da collezione con uno dei poster promozionali del film poster ovviamente originale nella parte posteriore il logo della midnight classic e poi il booklet sempre redatto dalla redazione di notturno con un saggio sul film e altre informazioni che non fanno mai male e anche ovviamente splendide foto tratte dal film in questione qui c'è la famosa faccia da culo e guardate questa che bella voi sapete lo dico spesso e volentieri le immagini le a doppia pagina mi fanno impazzire guardate questa ancora stupenda devo dire come al solito il booklet almeno sotto l'aspetto fotografico non ho ancora letto il testo ma sotto l'aspetto fotografico è veramente notevole qui abbiamo un altro dei tanti poster promozionali realizzati all'epoca per l'uscita del film ancora una foto doppia pagina che dirvi ragazzi io vi consiglio di farlo vostro di recuperarlo prima possibile vi ricordo mille copie non sono poche ma comunque non sono neanche tantissime prima o poi andranno fuori catalogo quindi io vi consiglio di farlo vostro non sappiamo neanche se poi verrà riproposta una versione normale di questo titolo per questo video ragazzi è tutto io vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda il fan factory shop vi ricordo che questa edizione è disponibile solo ed esclusivamente sul fan factory shop se vi è piaciuto questo video mettete un bel like se vi fa piacere iscrivetevi al canale attivate la campanella per stare sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi video e che dirvi noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti